Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A15 ci sono 3 km di coda per lavori tra Aulla e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti tra Arezzo e il Bibio per la variante di Valico. Fare inoltre attenzione per nebbia segnalata tra Rioveggio e Roncobilaccio. Segnaliamo che l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna ha il ristorante chiuso per lavori. Sulla Statale 1 Aurelia a scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. In A11 l'area di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa al Camper Service chiuso per un guasto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!